Scegliere il proprio futuro. Decidere il proprio benessere. Esprimere il proprio punto di vista sull'importanza di una sana alimentazione. Ora si può. Riparte Food for You. La sesta edizione della campagna di sensibilizzazione promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sull'importanza di un'alimentazione consapevole. Anche quest'anno, grazie al concorso per la produzione di Spot Video, rivolto alle scuole di 16 paesi europei, avrete l'opportunità per esprimervi in modo creativo e confrontarvi sui temi della sana e corretta alimentazione. Your Food, Your Body, Your Video. Se volete dire la vostra, questo è il momento giusto. Partecipate alla nuova entusiasmante avventura di Food for You 2010 con uno Spot Video che racconti le vostre idee sul tema della consapevolezza alimentare. Per i giovani europei, un unico, grande obiettivo. Comunicare il proprio punto di vista sull'alimentazione e sperimentare le potenzialità del messaggio pubblicitario. Mettetecela tutta perché potreste essere tra coloro che verranno scelti fra i giovani partecipanti di tutta Europa per vivere tutti insieme un soggiorno premio da sogno in una località rappresentativa della cucina tipica mediterranea. Per i migliori filmmakers europei, un premio prestigioso, il Food for You Award 2010, trofeo del Presidente della Repubblica Italiana. Food for You. Questa volta il protagonista sei tu.